Il concetto del senso di questa iniziativa che è stata portata avanti, noi abbiamo un territorio dove le estrazioni petrolifere sono al primo posto in Europa, il più grande giacimento d'Europa sul territorio, sul terraferma e chiaramente queste rilevanti estrazioni di gas danno alla Basilicata un beneficio che è un beneficio non solo per il territorio ma è per tutta la nazione. È chiaro che queste estrazioni comportano benefici di produzione di energia a favore di tutto il territorio e nello stesso tempo però anche dei costi in termini ambientali, in termini di limitazione di alcune attività produttive e così via. Bene, questi costi vengono riconosciuti e compensati, non parliamo di royalties come è stato detto poc'anzi parliamo di compensazioni, queste compensazioni e quindi vengono monetizzate queste compensazioni e pagate alla regione. Perfetto, questo pagamento delle compensazioni alla regione è un beneficio che ho ritenuto opportuno, un beneficio potesse essere dato a tutti quanti i lucani, a coloro che sono residenti ora abbiamo fatto una legge, faremo un regolamento dettagliato e soprattutto è una legge che è stata fatta che non vuole essere un incentivo sicuramente al consumo ma è un incentivo al risparmio. Noi faremo un regolamento, in questo regolamento che credo questa settimana sarà avvarato abbiamo previsto un decalage annuale, un risparmio del 10% a cui dovranno i cittadini attenersi per poter usufruire di questo beneficio. Quindi un doppio binario, fermiamoci qui per un attimo.